Marta Ruggeri, consigliera regionale, da mesi combatte una battaglia contro la ludopatia che però continua ad avere degli ostacoli. C'è questa proroga che è assolutamente qualcosa da stigmatizzare? Assolutamente sì, perché purtroppo sono stata nell'ultimo consiglio regionale relatrice di questa legge Omnibus, che vuol dire una legge che tratta di diversi argomenti, e all'interno di questa legge è sbucato fuori un articolo, il famigerato articolo 8, che proroga appunto la messa a norma degli esercizi che hanno all'interno delle slot machine per il gioco appunto d'azzardo, vicino a luoghi sensibili come scuole, università, compororo, bancomat, e quindi è già la legge regionale del 2017, una legge ben fatta, c'erano stati già 4 anni per poter mettersi a norma, e vi è stato ulteriormente prorogato questo tempo, secondo noi, infatti abbiamo presentato sia in commissione che in consiglio un emendamento soppressivo di questo articolo, secondo noi è assolutamente intollerabile giocare con la salute delle persone, quindi cedere alle lobby economiche piuttosto che pensare appunto a tutelare i soggetti più fragili della nostra società e comunità. Si inserisce in questo tema della proroga anche una differenza di trattamento tra categorie in termini di ristori? Certamente, perché per altre categorie che sono state soggette a chiusure abbiamo previsto dei ristori, cosa che invece non è stata fatta per queste categorie specifiche ed è stato scelto in maniera del tutto intollerabile una proroga per la messa a norma rispetto alla legge regionale.